Non si lascia attendere la risposta che il gruppo di maggioranza di Camerota, La Sveglia, dà al presidente del circolo PD Camerota e ai consiglieri di opposizione Guzzo e Del Gaudio. Questo è il testo. Da che pulpito viene la predica? Risposta al manifesto calunnia del PD. Se nel comune di Camerota le elezioni di legalità le devono dare il segretario del PD Bonifacio Saturno, il cognato consigliere per Paolo Guzzo e il loro velenoso suggeritore, allora vuol dire che siamo caduti davvero in basso. Riteniamo per questo doveroso dare tre risposte all'ennesimo manifesto calunnia del PD che a Camerota sta per partito denunce. Veniamo alla verità. 1. La messa in mora della Corte dei Conti verso alcuni amministratori del comune di Camerota è un atto dovuto in questa fase preliminare e la stessa non è una sentenza di condanna come vuol far credere il PD, nel quale milita uno dei pochi amministratori condannati dalla Corte dei Conti, sempre l'oscuro suggeritore del suo allievo Pierpaolo Guzzo, erede e continuatore di quella politica. 2. Una delle prime delibere approvate dall'Aggiunta Romano è stata quella con la quale si è chiesta la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite dai funzionari. 3. Siamo certi che tutte le persone citate nel manifesto calunnia del PD risulteranno estranee alla vicenda con buona pace di chi, come il PD, non avendo la capacità amministrativa di battere gli avversari con la politica, prova ad eliminarli con ricorsi, denunce ed altre azioni frutto di rancore, odio e frustrazione. Infine, cogliamo l'occasione per informare la popolazione che qualche giorno fa è stata pubblicata sul sito della Cassazione la sentenza della Corte che ha messo la parola fine sul caso Pozzallo, dando definitivamente ragione al sindaco Antonio Romano. A proposito di conti pubblici ne abbiamo fatti due anche noi. Valore del terreno del Pozzallo 10 euro per 200.000 metri quadrati uguale 2 milioni di euro, 4 miliardi delle vecchie lire restituiti ai cittadini. Quanto al segretario del PD Bonifacio Saturno sappia che a Licusati non hanno dimenticato e che Licusati ha buona memoria. Il gruppo di maggioranza la sveglia.